Allora, il caro Andrea è appena tornato da Foggia, il Foggia mi sembra che sia andato in serie Serie B, grande, grande risultato Ho visto Carlo che ha messo su tutti quei suoi video spettacolari, capo malato di Foggia Capultra Capultra, capo malato del Foggia Mi hanno detto che il segreto del Foggia è stato? Il segreto del Foggia è stata una squadra che si è costruita nel corso del tempo Il segreto del Foggia è che ha fatto il corso Win the Bank, me lo ricordo bene Ah sì? È venuto a fare il corso Win the Bank e lì hanno capito tutte le regole, tutte le strategie per conquistare la squadra Brazzani